salve a tutti i ragazzi volevo ricordarvi che oggi alle tre sul canale facebook obti online bulldozer torno ma ci sarà la finale tra il grande sabo che nonostante tutto nonostante cambi ogni ogni volta giocatori cosa lui in finale ci arriva perché potremmo aprire delle sottoscrizioni per abbatti anche tu questo sabo vediamo chi riuscirà a buttarlo giù dalla finale grandissimo sabo bravissimo e abbiamo una new entry nell'obt che mtg fabio che ha giocato molto bene il torneo è arrivato in finale quindi oggi alle tre sul canale facebook obti ci sarà la partita in diretta col mio commento ci vediamo dopo